Allenarsi per la vita, beh questo credo che sia forse lo sport più bello, l'allenamento migliore che sta facendo in questo momento un grande campione come Maurizio Gansi che oggi è a Domenia, città dello sport. Momenti belli, importanti quelli con i ragazzi di oggi Maurizio? Allenarsi per il futuro è un grande progetto portato avanti da Bosch da tre anni e mezzo, ma noi atleti tramite la metafora sportiva facciamo capire ai ragazzi come poter fare qualcosa di positivo nella vita e quindi cercare tramite la passione, l'impegno, la dedizione, tutte queste cose che servono per poter fare qualcosa di importante e quindi tramite le nostre esperienze cerchiamo di lasciare qualcosa a questi ragazzi. Mai arrendersi, questo è uno dei messaggi che tu hai dato stamattina ai ragazzi? Mai arrendersi, passione, volontà, determinazione, competenze perché è chiaro che bisogna prepararsi per potersi allenare e quindi non mollare mai e non farsi trascinare dalle negatività, bisogna andare avanti pensando con la propria testa, cercando di ottimizzare tutto quello che uno vuole. Fatica e sacrificio vengono sempre ripagati, anche questa è una delle cose che hai detto stamattina a queste ragazzine? Assolutamente, per poter fare qualcosa nella vita bisogna fare fatica, nello sport, nella vita, a scuola, insomma sempre, con la fatica si raggiungono sempre dei grossi risultati, questo i ragazzi devono capire. Oggi il mondo del calcio è cambiato, in meglio o in peggio secondo te da quando giocavi tu? Bisogna adattarsi, è cambiata la vita, è cambiata la vita un po' più umana, è cambiato nello sport, è cambiato nel lavoro, bisogna sapersi adattare, avere resilienza, cercare di ottimizzare tutto quello che uno cerca nella propria vita. Nel calcio tante cose sono positive, tante cose non sono all'altezza, però bisogna sapersi adattare, quindi bisogna guardare avanti come ho detto ai ragazzi, bisogna sempre fare un passo in avanti ma un passo indietro. 1, 2, 3, andiamo a vincere! Grande!